Una Audi mai vista prima. La prima proposta della Audi nel settore delle compatte si chiama A1. Caratterizzata da un design dinamico, una qualità senza compromessi e un'efficienza esemplare, la piccola A1 integra tutti i pregi del marchio in meno di 4 metri di lunghezza. Il nuovo modello con i 4 anelli esprime dinamismo, pregio, emozioni e individualità. I motori potenti e l'agile configurazione dell'assetto fanno della A1 l'auto più sportiva del suo segmento. È una city car moderna, ma anche un mezzo versatile per affrontare con slancio le attività di ogni giorno. L'assetto agile e i motori potenti le conferiscono un accentuato carattere sportivo. Il design avanguardistico riprende perfettamente i canoni della famiglia Audi ed è sottolineato dalla grande calandra single frame, dalla linea laterale con tetto arcuato, dai montanti posteriori che riprendono gli stilemi di una coupé e infine dai passaruota maggiorari. Gli interni della A1 sono sorprendentemente spaziosi, luminosi e leggeri. Il carattere giovane della A1 è evidenziato dalla scelta di materiali moderni e colori vivaci. Le bocchette colorate, le luci interne in tecnologia LED e i colori intensi dei rivestimenti testimoniano l'importanza conferita al fattore di personalizzazione. Un piacere di guida intenso, l'auto più sportiva della classe. Il telaio sportivo e agile proietta la A1 subito ai vertici della sua categoria. Grazie alla taratura sportiva, alla ripartizione ottimale dei pesi sugli assi e allo sterzo molto diretto, la A1 diverte ovunque, in città, sulle strade extraurbane e in autostrada. Il programma di stabilizzazione ESP con bloccaggio trasversale elettronico, montato di serie su tutte le motorizzazioni, aumenta la precisione di guida e la sicurezza della vettura. Le motorizzazioni Il più piccolo dei due motori è il 1.2 TFSI. Eroga 86 cavalli di potenza e mette a disposizione la sua coppia massima di 160 Nm già a un regime tra 1.500 e 3.500 giri. Il quattro cilindri, abbinato a un cambio manuale a 5 marce, accelera l'A1 da 0 a 100 in 11,7 secondi, permettendole di raggiungere una velocità massima di 180 km orari. Il 1.4 TFSI si presenta con 122 cavalli. Il valore massimo di coppia di 200 Nm è costantemente a disposizione a partire da 1.500 e fino a 4.000 giri. Il 1.4 TFSI con il cambio a 7 rapporti S-Tronic accelera la A1 fino a 100 km orari in 8,9 secondi e può raggiungere la velocità massima di 203 km orari. La Audi mette a disposizione i 1.6 TDI in due versioni. La più potente, abbinata al cambio manuale a 5 marce, eroga 105 cavalli di potenza massima e sviluppa una coppia di 250 Nm tra 1.500 e 2.500 giri. Con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 10,5 secondi e una velocità massima di 190 km orari, il compatto TDI a quattro valvole mette in mostra tutta la sua potenza, mentre il consumo di gasolio si limita in media a 3,9 litri per 100 km. La seconda versione del 1.6 TDI che verrà introdotta più tardi sviluppa 90 cavalli di potenza e una coppia di 230 Nm tra 1.500 e 2.500 giri. La vettura è disponibile a partire da settembre, i prezzi a partire da 16.800 euro fino ad arrivare nella versione più costosa a 22.900.